...plendido davvero. Allora, fatto tutto questo genere di precisazioni, mentre... Eh, lo so, lo so. Ma come no, subito. Fantastica, 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 fantastica. C'è il centralino... Amici e amiche care, io devo chiedervi un istante di cortesia. C'è il centralino che è in uno stato di stress drammatico. Abbiate un minuto di... È un continuo suonare di telefono, ed è meraviglioso, io vi ringrazio. Continuate, però concedeteci, vi prego, un minuto per esaudire tutte le richieste. È pazzesco. Ma ogni lavoro di Muscio è pazzesco, non c'è un lavoro di questo artista che non manifesti una precisione semplicemente maniacale per la pittura. Massimo, ma scegli il dettaglio che vuoi. È in conferma, subito, naturalmente. Scegli il dettaglio che vuoi. Amica carissima di Elite, qui c'è un pezzo che è una cosa per la quale io le faccio moltissimi complimenti. A questo punto non addentriamoci neanche nei termini di natura economica. È un lavoro pazzesco, quello è il numero 14, ma come qualsiasi altro lavoro, comunque non c'è più, è già in conferma. Quello è un 40 per 50. Poi la numero 13, che è una grandissima natura morta, quadro splendido. La numero 14 è un'altra chicca di grandissima raffinatezza. La numero 15 è la numero 16. Poi Massimo, tua piena autonomia nel movimento con la camera. Facciamo vedere proprio tutte. Guardate che sono tutti oggetti di una perfezione maniacale per la pittura iperrealista. Guardate che lavori. Guardate che lavori. sono tutti oli su tela. Poi li guardiamo uno per uno nei dettagli più attenti, più singolari. Devo muovermi intanto con rapidità perché, ripeto, voglio mandarlo il contributo dell'intervista. Numero 16, eccolo qui. Volete staccare sull'altra camera? Non ho capito. Ah, ci muoviamo con questa? Rimaniamo su questa? Pronti? Torna indietro, li vediamo benissimo così. Allora, hai visto il 16, hai visto il 15, il 13, il 14, qui c'è un gruppo di...